ciao amici come affrontate queste fredde giornate invernali non vi sentite più stanchi il modo migliore per iniziarle al meglio è con una bella e nutriente colazione lo so non sempre si dà il giusto peso al momento della colazione capita di mangiare qualcosa a caso o peggio di saltarla perché si ha poco tempo ma la colazione deve fornire tutta l'energia necessaria per riattivare il metabolismo e farci iniziare bene la giornata con le giuste energie e io che ho sempre cercato di alzarmi col piede sinistro per far andare bene le cose ma cosa c'entra quella del piede sinistro è un'altra storia magari ne parleremo in un altro video oggi invece parliamo dei peggiori cibi da evitare a colazione se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video 1 cibo piccante spezie cibo piccante vanno evitati perché possono irritare lo stomaco e causare problemi di digestione durante la giornata 2 bevande gassate sono piene di zuccheri e per nulla nutrienti da bandire a colazione decisamente meglio un succo di frutta biologico e senza zucchero 3 pomodori no anche i pomodori contengono acido tannico e solanina che irritano soprattutto a stomaco vuoto e di prima mattina 4 dolci in quantità dolci come biscotti e croissant accompagnano spesso la colazione però una sana colazione dovrebbe essere senza zuccheri se proprio non se ne può fare a meno meglio in dosi piccole e controllate troppi zuccheri creano dipendenza tolgono energia e fanno male alla salute 5 caffè qui la maggior parte degli italiani resterà male ma il caffè ha un effetto acidificante provoca infiammazione gastrite attacchi di colite e stimola le surrenali in modo artificiale con la caffeina allora qual è la colazione ideale ne ho parlato in molti video perché è un argomento gettonatissimo in descrizione trovate la playlist dedicata con una selezione di prodotti sani per chi vuole qualche consiglio su cosa scegliere per vedere tanti altri video sui migliori alimenti per la salute e la forma fisica è facile iscrivetevi al canale e attivate tutte le notifiche per sostenere il mio progetto di divulgazione di salute naturale abbonatevi al canale avere cura della salute naturale è importante anche per i vostri amici condividete questo video può essere utile per fare una buona colazione mangia sano e vivi meglio